Fare chiarezza sullo stato economico e finanziario della struttura, ma soprattutto richieste di delucidazioni sull'evoluzione e trasformazione della governance dell'ospedale di Monte Catone a Imola, sono al centro del dibattito politico locale e regionale, grazie a una interrogazione presentata in regione dallo stesso Carroccio. La fase è così delicata, stiamo monitorando attentamente la struttura di Monte Catone. Un'eccellenza nel panorama sanitario regionale e nazionale. Ovviamente questa fase richiede una grande attenzione dal punto di vista sanitario per mantenere alta l'attenzione e il livello dei controlli sui pazienti ricoverati in quella struttura che sono altamente critici. Ma c'è anche un altro problema che è emerso proprio durante un'ultima commissione comunale alla quale ha partecipato anche il direttore generale dell'ASL di Imola, cioè un problema economico. La struttura di Monte Catone purtroppo da un po' di anni a questa parte subisce un problema legato alla sua governance, cioè una forma anomala per quanto riguarda la sanità, una SPA 100% pubblica. Quindi pur avendo soci pubblici, l'ASL di Imola e il Comune di Imola, figura come una struttura privata, quindi al di fuori dei finanziamenti del pubblico. Questa è un'anomalia che va affrontata dopo tante chiacchiere purtroppo di tavoli promessi dalla regione Emilia-Romagna è giunto il momento di agire anche perché rischiamo altrimenti di perdere dei servizi importanti per il nostro territorio imolege, regionale e nazionale.